Vivi sul mattino a primavera, grazioso paese, lo tutto in fiore. Esempio di vita, umanità e valori, Carmelina, circondata da nipoti, pronipoti, amici e tanti conoscenti, ha festeggiato nella sua summonte i suoi cento anni di vita. Un compleanno speciale dove ognuno non ha voluto mancare all'evento. Prima la cerimonia religiosa in chiesa dove il parroco Don Pietro ha afficiato una messa assieme agli associati dell'azione cattolica, poi in comune dove il sindaco Ivo Capone ha regalato un momento speciale per Carmelina. Festeggiare cento anni è un evento sicuramente straordinario e per questo tutta la comunità di summonte si sta stringendo intorno alla nostra festeggiata, che poi festeggia anche il suono mastico oggi in occasione della Madonna Santissima del Carmelo. Una figura storica della comunità, ha sempre vissuto a summonte, è nubile, abita a Via Varra e quindi è giusto praticamente che noi come amministrazione ci mettiamo comunque a disposizione per far passare questo messaggio di grosso augurio per questo traguardo importantissimo. Nonna Carmelina, una vita fatta di sacrifici e basata sui valori della famiglia e dell'amore, è la nuova centenaria del comune di summonte, esempio per i giovani che spesso preferiscono andare via. Il messaggio da dare ai giovani è un messaggio anche da dare alla politica, che deve compiere qualsiasi sforzo per fare in modo da creare i presupposti perché le nostre intelligenze, le nostre risorse umane non abbandonino i nostri territori per portare ricchezza altrove, ma creare quindi le condizioni per fare in modo che i nostri giovani restino qui nei nostri luoghi.